ciao allora oggi vi parlo di un eyeliner in gel questo della zoeva in tubetto che è bellissimo ed intanto si chiama Eclipse, è cream eyeliner waterproof e la quantità è un 3,5 ml se amate gli eyeliner e questi da prelevare col pennellino fatti così questo tipo di eyeliner e questo marchio davvero vi sembrerà fantastico perché sono prodotti meravigliosi, si stende bene con un pedellino angolato, l'altro applicare bene, si asciuga subito e resta intatto tutto il giorno è fantastico, lo ho già detto fantastico, resta intatto davvero tutto il giorno ed va struccato alla sera con un struccante per occhi io per trucco occhi tranquillamente e durante il giorno resta fisso, non fa le crepe, non si sgretola, anche se lacrima l'occhio non sbava che è una cosa che io adoro oltretutto questo colore è molto intenso però quando si asciuga diventa quasi completamente opaco ed se vi piacciono gli eyeliner in gel questo sticker waterproof però davvero dura tantissimo è meraviglioso e cos'altro dire il prezzo deve essere sugli 8 euro se non sbaglio comunque in vendita sul sito della Zoeva oppure da Douglas in tanti colori e basta perché anche la confezione è carina questo vetro serigrafato unica cosa come tutti gli eyeliner in crema o in gel quando lo usate per un po' di tempo mettetelo col tappo rivolto verso il basso così il prodotto non si deposita sul fondo e anche gli oli vanno verso l'alto la parte che andiamo per levare e non si secca in questo modo davvero ve lo faccio vedere io l'ho usato, potete vedere, fino alla fine e davvero è un modo che funziona quindi io ve lo consiglio questo prodotto e fatemi sapere se avete provato, come siete trovate io come sempre ho spiegato utile e se vi è piaciuto il video mettetemi un like e iscrivetevi al canale così non perdete la prossima accensione beauty e alla prossima, ciao!